Ritorniamo a spazio aperto, ritorniamo al nostro ospite Pier Giorgio Caria, tutti quanti voi credo lo conosciate, è uno studioso internazionale, è un ricercatore e quindi con lui abbiamo l'opportunità di accendere un po' una luce in un buio di conoscenza che è molto molto diciamo accentuata, che questa luce ci consenta grazie a lui di vedere sempre più spiragli di novità e questa sera speriamo di poterle vedere, magari studiando qualcosa di quello che sta accadendo, intanto salutiamo il nostro ospite Pier Giorgio Caria, buonasera Pier Giorgio Salve, un saluto a te, grazie, molto lieto di essere assieme a voi, è un piacere parlare sempre con il pubblico Grazie, lo scrigno della conoscenza si sta dischiudendo, sembra che ci siano notizie che vengono centellinate ma al di là di queste informazioni poi ce ne sono tante che vengono chiuse o addirittura non rivelate. Io ti chiederei il tuo parere su dichiarazioni che sarebbero state date dai cosiddetti rivelatori secondo i quali il pianeta Marte sarebbe già stato colonizzato. C'è alcuni di loro che dicono di avere addirittura vissuto per venti anni su questo pianeta addirittura dal 1970 circa e che ci sarebbero su questo pianeta addirittura delle corporazioni che tutelano indagini e ricerche minerarie. Tu a questo proposito Pier Giorgio che notizia hai? Ma a dirti la verità Ugo ho sentito queste dichiarazioni che sono state fatte anche da un ex consigliere di Jimmy Carter, adesso mi sfugge colpa alla stanchezza il nome ma è abbastanza conosciuto, se mi viene in mente lo dico, dove appunto addirittura con sistemi di teletrasporto sarebbero state create delle colonie umane su Marte con lo scopo di colonizzare il pianeta. Allora, secondo me, Ugo, queste sono delle merite corbellerie messe in giro da circuiti di disinformazione perché le tecniche di manipolazione mentale con cui l'intera umanità di questo mondo, o perlomeno quella che ancora può permettersi di raggiungere i media. Sappiamo bene che la stragrande maggioranza degli abitanti della Terra è l'unica cosa che può fare, cercare di campare da giorno all'altro cercando un po' di cibo, quindi non ha nessun accesso all'informazione. Quindi la minoranza che ha ancora accesso all'informazione in realtà è manipolata da un sistema talmente pervasivo che è impossibile per il cittadino comune rendersi conto di quanto sia stretta questa maglia di condizionamento continuo che è attuata a tutti i livelli, attuata attraverso le canzoni, attuata attraverso la cultura, attraverso il cinema, attraverso la letteratura, attraverso il mainstream dell'informazione. È un continuo bombardamento di informazioni che tendono a creare una realtà falsa della condizione dell'essere umano e della stessa realtà per impedire che noi ci rendiamo conto di vivere una vita assurda e possiamo tollerare cose innominabili come quelle che tolleriamo tutti i giorni. Cito alcune cose, ad esempio l'euro è una moneta falsa, è una moneta con copyright, simbolo chiaramente stampato sulle banconote, una moneta che è d'istituto di diritto pubblico come prevede la Costituzione di uno Stato repubblicano è diventato un istituto di diritto privato, è una metafia, quindi senza una copertura, è l'unico valore che ha è solamente perché noi la usiamo, se no non ha nessun valore, cioè è solo captarci. Allora, per poter esistere in un sistema talmente assurdo di schiavitù e di inganno è necessario bombardare tutti i santi giorni nella maniera più dettagliata e sottile e a tutti i livelli la persona comune con un insieme enorme di informazioni. Ripeto, è impossibile, è impossibile per la persona comune rendersi conto di questo. Basti dire che una frase, cito a volte, extraterrestri è l'uomo comune, la persona ben educata è un pazzo, non è una persona sana di mente. Lo diceva anche il maestro Krishnamurti, non ci può essere nessuna sanità mentale in una persona conformata a una società totalmente ammalata. Scusami, Giorgio, l'ultima parola non l'abbiamo capita, in una persona? Non ci può essere sanità mentale in una persona totalmente conformata a una società profondamente ammalata come la nostra. Con questo io sposo in toto le parole di Krishnamurti e quella di quell'essere dell'estraterrestre che ho detto prima che è un marziano, il nome regga, quindi l'ho citato a proposito. Marziano che è un troio genio siragusa tanti anni fa, il mio padre spirituale, un contattista in una struttura extraterrestre orbitante e dicevo io stesso la prima volta che ho impattato su questo pervasivo e omnipresente sistema di condizionamento sono stato letteralmente scioccato e ancora quando io ho vissuto questa prima esperienza, avendo appunto modo di viaggiare in ambiti militari, scientifici, addirittura di intelligence e ancora comprendevo poco, oggi che a distanza di tanti anni conosco tante più cose mi rendo conto di quanto terribile ogni presente continua sia questa manipolazione delle nostre menti. Diceva Bonella prima che lui non vede l'ora che torni Cristo a giudicare i malvagi, ma io dico che i malvagi esistono solo perché il popolo è passivo, solo perché il popolo è colluso, solo perché il popolo non si ribella, non si oppone a questo sistema. Quindi i potenti secondo me sono giustificati nel fare il loro gioco perché ne traggono i benefici che tutti sappiamo, ma io quello che non capisco è il popolo, perché il popolo non reagisca di fronte alla terribile, ormai pubblicissima corrotela che sta già a livello di comuni, sindaci, per non parlare del governo, per non parlare del nostro primo ministro, che è il terzo primo ministro non eletto dal popolo, quindi non rappresenta nessuno, non capisco perché gli italiani non scendono in piazza e non si ribellino a questa condizione. Quindi ecco come si chiamava il tizio, Bassiaco, quindi le affermazioni che su Marte ci sia una colonia umana è un'affermazione assolutamente ridicola, stupida, ma plausibile nel momento in cui la persona comune non sa assolutamente nulla delle leggi che governano la creazione, non sa assolutamente nulla di quali sono le regole di interazione tra le varie città che governano l'universo, non sa nulla di come e del perché le civiltà extraterrestri sono nel nostro mondo, non sa nulla del perché i governi del nostro pianeta, o meglio i poteri del nostro pianeta occultano all'intera umanità questa meravigliosa realtà, eccetera, eccetera, eccetera. Solo in un regime di profondissima ignoranza anche dei colleghi ricercatori. Hai detto prima, Ugo, io sono un ufologo, io non sono, scusami se voglio puntualizzare, non sono un ufologo, sono un ricercatore, semmai mi occupo di visita extraterrestre, che l'ufologo è quello che si occupa del mezzo, a me non interessa il mezzo, oppure diciamo che mi interessa relativamente. A me interessa sapere chi sono questi esseri, perché vengono e che cosa vogliono. Questo credo che sia molto ma molto più importante. Quindi le affermazioni che su Marte ci siano coloni e terrestri sono delle emerite sciocchezze, lo ribadisco, perché su Marte esiste una fiorentissima civiltà su un piano a noi ora non percepibile, ma che inizia a essere percepito da sofisticatissimi strumenti che incominciamo a vedere. Detto questo è anche vero che su Marte, questo lo deduciamo dai filmati e dalle foto che inviano le sonde marziane, esistono numerosissime strutture dell'antichissima civiltà marziana che si è distrutta milioni di anni fa a causa di un enorme disastro cosmico che lì è accaduto, ma ci sono anche tracce di una presenza tutt'oggi operativa e reale che viene immortalata nelle immagini che ci mandano le sonde robotiche inviate lì dagli Stati Uniti. Ecco, allora, visto che hai proposto questo argomento sugli extraterrestri, chi sono e cosa vogliono, credo che ai nostri ascoltatori interessi sapere i tuoi pareri a proposito di questi extraterrestri. Chi sono e cosa vogliono gli extraterrestri, Pier Giorgio? Ma gli extraterrestri intanto genericamente, Ugo, non si presentano come abitanti provenienti da questo o da quell'altro posto, per quanto abbiano dato informazioni in tal senso, quindi sappiamo che ci sono esseri che vengono da alcuni pianeti del nostro sistema solare, Marte come abbiamo già citato, Venere, alcune lune di Saturno e fuori dal nostro sistema solare. Abbiamo un racconto molto bello scritto in un libro, a tutt'oggi acquisibile, in internet o in libreria, che si intitola Ho incontrato gli extraterrestri, che parla dell'incontro che avviene nel 1967 tra un importante personaggio di una grossa multinazionale olandese nel settore automobilistico e degli esseri provenienti da un pianeta a dieci anni luce di distanza dalla Terra, quindi da un altro sistema solare. Un racconto interessantissimo, in questo libro ci sono tantissime informazioni, sappiamo che ci sono degli extraterrestri che provengono dal sistema delle Pleiadi, sappiamo che ci sono extraterrestri che provengono dalla cintura di Orione, provengono dalla Chioma dei Berenice, da Procione, dal Facentauri, eccetera, eccetera, quindi una varietà di provenienze veramente straordinarie anche da altre galassie. Però tutti questi esseri tendono a presentarsi come appartenenti ad una enorme, pazzesca e complessissima confederazione interstellare che raccoglie tutte quelle umanità che hanno superato le condizioni della legge della giungla. C'è l'umanità che hanno risolto il problema della guerra, il problema dell'ingiustizia sociale, il problema della depauperazione delle risorse del pianeta, insomma città che hanno raggiunto un perfetto equilibrio non solo tra di loro come appartenenti alla stessa società, ma anche nella loro relazione e interazione con il pianeta nel quale vivo. Queste civiltà grazie al raggiungimento di questo standard possono sviluppare la complessissima scienza necessaria per i voli interstellari e una volta che raggiungono questo vengono contattate dalle civiltà che precedentemente già ne facevano parte e vengono inglobate in questo fantastico organismo interplanetario che è appunto la confederazione interstellare. Quindi loro si presentano come la confederazione, cioè non sono iniziative erratiche, iniziative che ogni singola civiltà ha il suo modus operandi, ma tutte concorrono all'interno del progetto che è salvezza dell'umanità della Terra. Ecco, la Terra e i suoi abitanti quanto sono distanti da questa meta? Quanto tempo secondo te e quanto dovrebbero fare per poter raggiungere livelli utili e necessari per entrare a far parte della confederazione? Ma noi siamo, Ugo, siamo distanti a un abisso di tempo e soprattutto a un abisso di evoluzione dagli standard necessari per essere accettati all'interno del contesto e del contesto delle superfici da cosmi. Siamo in opposizione, siamo in un momento evolutivo del pianeta avanzatissimo, dalla terza dimensione ci stiamo affacciando alla quarta dimensione che è un discorso troppo complesso per essere affrontato in un breve tempo, però diciamo che sta mutando la frequenza energetica della materia del nostro sistema e anche della materia biologica, non solo di quella geologica. Questo è un lavoro che sta facendo il Sole assieme alle altre forze cosmiche, in certi ambienti un po' new age viene chiamato il salto quantico, in effetti ci stiamo entrando. Purtroppo rispetto alla condizione e al punto in cui il salto quantico si trova oggi noi siamo in opposizione nel senso che per poter affrontare in maniera equilibrata questo salto quantico è necessaria un'avanzata evoluzione spirituale. Noi tutto abbiamo come umanità tranne che un'avanzata evoluzione spirituale, non sto parlando di religione, sto parlando nel campo dell'etica, sto parlando del cuore della legge dove Cristo dice ama il prossimo tuo come te stesso, non pari ad altri ciò che non vorresti fosse fatto a te. Sto parlando di questo. Noi invece viviamo in una società di fogli, di pazzi scatenati che si uccidono in maniera industriale l'uno con l'altro, non rispettiamo l'etica, lo stiamo distruggendo, non rispettiamo i nostri simili, non rispettiamo gli animali, non rispettiamo nessuno. Siamo una razza, una razzaccia, assassina, vigliacca, violenta, egoista, indifferente, eccetera, eccetera. Quindi questi standard sono in opposizione a quello che la Confederazione necessita per poter accettare le umanità all'interno del loro organismo. E' anche vero, secondo le stime che fanno questi esseri, che comunque un certo numero di persone in realtà è pronto per poter accedere. Quindi sono poche milioni di persone, però dal loro punto di vista degli extraterrestri sufficienti per poter rifondare una società giusta ed equa anche su questo pianeta. Quello che è doloroso è che per poter realizzare questo progetto che gli extraterrestri hanno, cioè quello di acquisire anche l'umanità di questo mondo all'interno di questo straordinario organismo, sarà necessaria una fortissima, una feroce selezione della qualità delle persone. Quello che un po' teologicamente viene chiamato la separazione del grano e della gran miglia. Cioè siamo nel momento in cui in una condizione estremamente favorevole, sfavorevole, scusate, sfavorevolissima all'umanità della Terra, appena l'autodistruzione, è stata proposta l'integrazione cosmica, la cosmic integration. Bene, ma questa rifondazione, cioè rifondare, ecco seguiamo il filologico che tu in maniera molto molto semplice ci stai facendo seguire. E come dovrebbe avvenire secondo te? Avviene attraverso un processo che è un misto di attività da parte di queste civiltà, è un misto di autoselezione in base alle condizioni dettate dalle leggi che governano la creazione, cioè la legge di causa ed effetto. Ora l'uomo del nostro pianeta, purtroppo Ugo, nella stragrande maggioranza non ha la più palida idea di che cosa siano queste leggi. Pensano che la vita dell'uomo sia frutto del caso e viva secondo il caso. In realtà non è così. La nostra vita è regolata da sofisticatissime, potentissime leggi naturali, assolutamente scientifiche, ma è quel corpus di leggi che, prendendo a prestito un po' una forma di definizione antica, è la scienza sacra, cioè la scienza che studia le leggi che governano l'essere umano, lo spirito e intelligenza, non solo l'uomo come corpo biologico. Sono le leggi che governano la nascita, che governano l'evoluzione dell'uomo, che governano la morte dell'uomo, il suo destino dopo la morte e il suo destino nel momento che deve prendere corpo. Di queste leggi noi, Ugo, non sappiamo nulla, non le conosciamo, non sappiamo niente, e invece sono leggi importantissime. Oggi l'umanità della Terra, ma da millenni ci troviamo in questa situazione, è un po' come un autista che si compra un'automobile, vuole fare un viaggio a Palermo a Milano, ma non sa guidare e non conosce il codice della strada. Quindi questo viaggio, che è la nostra vita, è un continuo incidente in tutti i campi, perché appunto non conosciamo le regole. Invece gli extraterrestri conoscono bene queste leggi, le conoscono scientificamente e quindi stanno attenzionando, usiamo questo termine, quelle persone che comunque hanno compreso i propri insegnamenti dei maestri rituali che sono venuti sulla Terra, in primis il nostro Signore Gesù Cristo, ma parlo di azione, non parlo di credo, di credenze. E stanno, diciamo così, ispirando e seguendo quelle persone che mettono in pratica il cuore della legge, che è appunto ama il prossimo tu come te stesso, non fare ad altri quello che non vorresti fosse fatto a te. Ora, siccome sto citando passi biblici, qualcuno potrebbe dire, ma allora c'è una relazione tra la visita extraterrestre e le profezie scatologiche su giudizio universale e la seconda venuta di Cristo? La risposta è assolutamente sì. Quello che Cristo ci profetizza nel Vangelo, quando parla di angeli, quando parla di giudizio, quando parla di separazione del grano dalla gramigna, è in chiave antica, in chiave teologica, esattamente quello che sta accadendo e che coinvolge anche le civiltà extraterrestri. Ecco, Pio Giorgio, io so che sei stanco, se non sbaglio, reduce da un'altra lunga e interessante intervista, però i nostri ascoltatori credo che abbiano anche loro voglia di continuare a parlare, per cui... A disposizione, Ugo, sì, sono un po' stanco, ma... Ecco, allora, io seguo il tuo filologico, perché è interessantissimo. Leggi che dovrebbero essere diffuse, chi dovrebbe farlo e chi ha interessi a nasconderle invece? Ah, ovviamente, soprattutto per noi, cattolico-cristiani, l'ente che avrebbe dovuto divulgare queste leggi è la Chiesa Cattolica. Purtroppo, ai suoi vertici, non parlo della base, che comunque fa di brave persone, di gente onesta, di bravi preti che cercano di interpretare al meglio, credo, quelli che sono i lettori del Vangelo, ma i vertici della Chiesa, cioè il Vaticano, sono corrotto. E tutto quello che Cristo dice nel Vangelo, oltre a spiegare queste leggi, Cristo è contro i potenti, Cristo è contro i poteri, Cristo è a favore dei deboli, dei poveri, dei malati, quindi questo Cristo, per i vertici stessi che comandano la Chiesa Cattolica. Per questi vertici è scomodo liberare le persone con la conoscenza, perché è una cosa che tu realmente ti rendi conto che sei eterno, comprendi bene come funzionano queste leggi, hai in mano un potere personale straordinario e non hai più bisogno di affidare la tua vita a gerarchie che appunto sono corrotte. Per cui questa gente, ma assieme a loro cito i capi delle multinazionali, cito quelli che hanno in mano il sistema monetario mondiale, cito l'industria bellica, cito la Big Pharma, nessuno di questi enti ed altri hanno interesse a divulgare al mondo la visita extraterrestre e tantomeno questo corpus di leggi che libera l'uomo finalmente dal gioco della schiavitù dei tiranni. Tutti loro, io di questo ne ho la prova provata, sono cose che ho toccato con mano, come ho già detto assieme io e altri, grazie soprattutto alla straordinaria esperienza di un mio carissimo amico, Giorgio Bon Giovanni, stigmatizzato, grazie ai suoi insegnamenti e agli insegnamenti di Eugenia Siragusa, all'enorme quantità di dati che io ho ritrovato in questi quasi trent'anni di ricerca, veramente straordinari, incredibili, talmente tanti che faccio fatica, nelle ore che dedico alla divulgazione, a parlare di quello che conosco, perché veramente è un insieme di cognizioni, di prove, di dati veramente straordinarie. Quindi questi potenti non vogliono che l'umanità sia libera, perché per loro finirebbero i pasti gratis. E infatti quando tu parli di eternità, naturalmente parli della parte non corporea. Certo. E all'interno di questi potenti la parte eterea, diciamo così l'anima, lo spirito, credo che abbia subito la prevalenza del corpo e quindi questo induce, ci fa vedere gente che ha fatto di sé importanti valori come la crudeltà, la prevaricazione e altri. Come mai all'interno di questi potenti non abbiamo una ribellione dello spirito? Perché il loro spirito si è venduto al demonio. Per avere gli straordinari vantaggi che hanno il piano materiale, si sono venduti l'anio diavolo. Cioè hanno accettato e si sono interpretati di una situazione che è in opposizione alla legge. Perché questi personaggi godono nel dominare il prossimo, nello schiavizzarlo, nel vederlo soffrire. Si sono corrotti spiritualmente. D'altronde ricordo che persino un apostato di Cristo ha venduto il nostro Signore al potere di allora. Quindi quello che Cristo chiama il figlio della perdizione, l'unico dei suoi che non raccomanda il Padre, ha, diciamo così, generato tantissimi eredi che hanno in mano il pianeta. Sono persone che vogliono sostituirsi a Dio, vogliono comandare loro, vogliono dettare le loro leggi. Quindi non è tanto, dal mio punto di vista, una corruzione perché vogliono essere ricchi, cioè vogliono avere tanta materia. Ma è proprio una corruzione dello spirito. Cioè sono persone che non amano il prossimo. Sono persone che amano dominare il prossimo, schiavizzare il prossimo, far soffrire il prossimo. Quindi la parte materiale, lo strumento è la clava o la catena che loro usano per tenere l'umanità in una condizione di schiavitù. Cioè sono gli uomini che si sono ribellati a Dio, accettando la tentazione lucifica di ribellarsi al Creatore. E ovviamente questa ribellione spirituale di conseguenza produce anche una condizione materiale che noi riscontriamo nella nostra società attualmente. Ma il loro tempo è finito, Ugo. Gli rimane pochissimo, perché stanno arrivando le legioni di Cristo, con lui il comando, che hanno delle belle catene assolutamente indistruttibili e vedrai che i demoni e gli assassini della vita li legano per bene. Bene, questo tempo è un altro argomento interessante. Quindi io introdurrei la seconda parte, diciamo, di questa chiacchierata molto molto interessante. Cioè il 2017, ma già da prima credo che si era iniziato un periodo di anni, diciamo, interessanti da questo punto di vista. Credo che ci siano anche delle scadenze. Assolutamente sì. Il 2017, Ugo, è una data catartica perché scade il secolo mistico. termina il secolo mistico che è iniziato il 13 ottobre del 1917 e sono i cento anni di potere che Dio concede a Satana per dominare il mondo. Quindi nel 2017 questi cento anni scadono, quindi dal 2017 in poi Satana perderà progressivamente il suo potere, teologicamente parlando, ma materialmente parlando vuol dire che il sistema criminale che oggi domina l'umanità crollerà clamoramente e fragorosamente trascinandosi dietro purtroppo la parte del genere umano che è collusa e alleata con questo potere. Dico collusa perché dal mio punto di vista, ma dal mio punto di vista nel senso che me lo sono formato attraverso lo studio delle leggi universali, anche l'onesto cittadino indifferente però che non fa nulla, che si adegua al sistema per quanto non sia un criminale disonesto in realtà è colluso col potere perché se io passo per strada e vedo un delinquente o un pedofilo che è violento a un bambino, se non intervengo divento complice di quel crimine. Quindi anche la società civile che non si ribella al potente, che cala la testa e non fa nulla per il prossimo verso, è collusa con questo sistema. Quindi il crollo del sistema provocherà assolutamente uno sconquasso planetario e purtroppo il prezzo da pagare per un repulisti assolutamente indispensabile perché se non ci intervenissero queste forze cosmiche, l'umanità è tecnicamente già in. Non abbiamo speranza di sopravvivenza. Invece grazie all'intervento delle forze cosmiche, quindi di queste superciviltà, hanno mezzi tecnici per noi inimmaginabili, ma anche della stessa divinità di Cristo che è il capo di queste legioni angeliche, le sorti del mondo assolutamente si risolveranno, anche questo mondo conoscerà finalmente una civiltà degna di questo nome. Questo sarà caro, ma è il prezzo da pagare per le scelte scelerate che abbiamo fatto fino a oggi. Le profezie che indicano la data del 2017 come una data importantissima sono inumerevoli, sono tantissime, a partire dallo stesso messaggio di Fatima. Noi conosciamo il testo cosiddetto diplomatico che dice che è la seconda metà del secolo XX. In realtà questa è un errore di interpretazione del funzionario vaticano che stilò questo testo che fu mandato durante la crisi di Cuba agli Stati Uniti, all'Inghilterra e all'Unione Sovietica. In realtà la Madonna non parlava del XXI secolo, la Madonna parlava del secolo mistico iniziato, lo ribadisco, il 13 ottobre 1917 che terminerà il 13 ottobre 2017. Dopo questa data, ma già in realtà le anticipazioni, il prologo di questo crollo già lo vediamo, dopo, quindi già nella profezia di Fatima abbiamo l'indicazione del tempo che Dio dava all'umanità prima del giudizio universale, ma abbiamo altre numerosissime profezie, ne cito una di Teresa Neumann che più o meno negli anni 40 disse che nel 1999 si sarebbe aperta una grande piaga che avrebbe sanguinato 18 anni. Ora, il 1999 più 18 fa esattamente il 2017. Lei chiama questo tempo il tempo di Caino, cioè il tempo dove domina il fratello che uccide il fratello. La Vegente aggiunge che in questo tempo i capi del mondo sarebbero stati dei mostri con il corpo di serpente e la testa d'asino, quindi essi molto crudeli ma stupidi, le cui scelte stupide avrebbero portato l'umanità ad una gravissima crisi. La Vegente stessa poi dice e annuncia che sarà necessario a causa delle terribili ingiustizie della stessa sporcizia creata da questo sistema, un grande repulisti, che sarà un repulisti, un nuovo diluvio, ma stavolta col fuoco, diluvio, da cui sorgerà finalmente l'umanità ripulita e l'umanità rispettosa delle leggi della creazione. Ma ce ne sono tante, adesso citarle tutte sarebbe lunghissimo comunque. Ecco, per Giorgio intanto scusami se ti chiedo di fermarti per un secondo, prima di procedere questo interessante dia, poi ti chiederò altre cose rispetto a questo argomento. Dunque mi si chiede di comunicare ai nostri ascoltatori che stiamo andando anche su un canale YouTube e che il player è presente nella nostra pagina di Facebook. Dalla chat poi abbiamo una domanda che credo tu abbia già soddisfatto da parte di Anon 8641 e chiede di conoscere, di sapere quando avverrà il giudizio divino e mi dice quando avverrà il giudizio divino il famoso prelevamento avverrà solo con lo spirito e anima o anche con il corpo? E' questa che è la domanda che mi fa Anono. Sì, il prelevamento sarà in entrambe le modalità. Sarà spirituale e animico per le persone che perderanno la vita in questo processo di purificazione che secondo le profezie comprenderà anche una guerra nucleare tra le potenze in esame. Di questo parla la quartina 91 di Nostradamus che parla appunto del contatto cosmico ma ci saranno anche alcuni milioni di persone che saranno prelevate col corpo fisico perché questo è necessario in quanto il pianeta per poter proseguire la sua vita, per poter sopravvivere il suo sistema biologico a necessità di un numero di esseri umani, numero che gli extraterrestri hanno indicato molti anni fa che è esattamente di 7.465.006 persone. Quindi devono essere prelevati oltre 7 milioni di persone se no il pianeta diventa sterile e muore. Quindi ci sarà, lo ribadisco, un prelevamento animico spirituale ma anche un prelevamento fisico-biologico se vogliamo usare questi termini. Quando avverrà non lo sappiamo. Sappiamo però che il giudizio universale è già in atto. Nel momento in cui Cristo si manifesta assieme a questi esseri in quel momento termina il giudizio universale nel senso che Cristo scenderà solo per prendere atto di ciò che noi abbiamo compiuto nella nostra vita. Da quel momento in poi non potremo fare più nulla, non potremo più chiedere perdono, non potremo intraprendere nessun tipo di attività per poter rimediare ai danni fatti. Quindi questo è il momento in cui noi ci stiamo autogiudicando con le scelte quotidiane. Come si esce santo di giudizio? Mettendo in pratica quello che Cristo ci ha detto. Dare da mangiare agli affamati, da bere agli assettati, vestire agli ignudi, eccetera, eccetera. Cioè, di farsi ad opere a favore della vita. Ovviamente se ci riuniamo, se ci associamo, se lo facciamo in gruppo, la nostra opera sarà molto molto più incisiva ed efficace. Bene, passiamo all'argomento successivo, sempre con il nostro amico Pier Giorgio. Sembra che abbiano individuato la presenza di un pianeta. Si è parlato, i pitagorici lo individuano come pianeta decimo e sembra che questo pianeta, Pier Giorgio, stia avvicinando la sua orbita a quella del sistema in cui ci troviamo noi. Può avere un riferimento, può esserci un collegamento fra quello che è l'avvicinamento del pianeta 10 e quello che potrebbe accadere con il suo avvicinarsi? Ma, guarda Ugo, già dagli anni 50 gli extraterrestri dissero al contattista polanacqua americano Giadamski che i pianeti del sistema solare in realtà sono 12. Quindi la scoperta di questo decimo pianeta rientra assolutamente nei dati scientifici anticipati da questi esseri. Dopo, se possiamo in questo decimo pianeta individuare quel famigerato pianeta di cui parlo Zeccaria Sitchin, cioè il pianeta Nibiru, questo non te lo so dire, ma i dati che io possiedo è che Nibiru non è quello che dice Sitchin, è tutt'altra cosa e tra l'altro io condivido abbastanza poco delle cose dette da Sitchin perché Sitchin, a parte essere un sumerologo, non capiva nulla di astronautica, non capiva nulla di scienza e non è, per questo di valutazione che fanno tantissime persone, non perché io leggo una lingua e poi visco quella scienza, non è perché Sitchin leggeva le tavolette sumeriche e era in grado di comprendere una scienza vecchia di 6.000 anni, sempre ammettendo, Ugo, che i sumeri sapessero la verità o che avessero scritto cose giuste, non corbellerie come a tutt'oggi scriviamo anche noi, quindi c'è un'esagerata mancanza di discernimento e di senso critico nell'accettare le teorie di Sitchin. Io posso e sono sicuro di vincere questa competizione, io posso portare a ciascun ascoltatore o a una persona che incontra un libro scritto in perfetto italiano di fisica nucleare, ma non perché scritto in italiano la gente capisce la fisica nucleare, quindi è un errore sciocco di interpretazione e di valutazione da parte delle persone, pensare e accettare che perché uno legga una lingua antica poi capisce cosa significa, è stupido, è una scienza, quindi nessuna scienza può essere compresa se prima non ci sanno le basi per poterla capire, quindi io per capire la fisica nucleare devo essere un fisico nucleare, devo aver fatto un corso di studi, quindi Sitchin al di là di essere un sumerologo non capiva nulla di extraterrestri, non capiva nulla di cosmo, non capivano accidenti di nulla di queste cose e quindi la sua bellissima saga straordinaria è un bellissimo libro di fantascienza ma che ha poco, pochissimo a che vedere con la realtà dei fatti, questo è assolutamente necessario dirlo. Sì, va bene, grazie Pio Giorgio, ma intanto questa massa che sembra abbia una massa enorme di questo pianeta, dovrebbe essere un astro, non so che cosa sia, un asteroide, ma si sta avvicinando e comunque non avvicinarsi di questa massa dovrebbe creare delle... Ma io non sono tanto d'accordo Ugo, qualche anno fa è stata casualmente scoperta da un astronomo dilettante l'impatto pure filmato di una cometa su Giove ed era una cometa grande quanto la Terra, non se ne era accorta manco la NASA, quindi di cosa stiamo parlando? Stiamo parlando di sciocchezze, cioè noi non sappiamo, noi non abbiamo Ugo come cittadini la scienza in mano per stabilire quale massa possa causare nel sistema solare delle, diciamo così, anomalie, non lo sappiamo. Sappiamo e possiamo, ripeto, farci un paragone, una idea da notte, notizie come questa che, ribadisco, una cometa grande quanto la Terra, impatta su Giove e non se ne accorge nessuno, manco la NASA, se ne accorge solo un astronomo dilettante. Negli anni 90, nel 94, per l'esattezza, impattò su Giove la Schumacher-Levy, una cometa che si divise in nove parti, tutte e nove colpirono Giove. L'energia sviluppata da questo impatto era pari, Ugo, e lo dico scandendo bene le parole, a 6.000 volte l'esplosione dell'intero arsenale atomico della Terra. Ribadisco, 6.000 volte l'esplosione dell'intero arsenale atomico della Terra. È successo qualcosa a casa nostra? Assolutamente nulla. Quindi voglio dire, quando ci lanciamo nell'accettazione di notizie sensazionaliste, dobbiamo stare attenti perché dopo, in realtà, non abbiamo nessuna base di preparazione scientifica per poter dare a queste sconsiderate affermazioni un minimo di veridicità. Quindi io non credo assolutamente al pianeta distruttore, non credo a queste scienze, credo invece che siano in atto dei processi assolutamente coerenti con le leggi cosmiche che non dipendono dall'ingresso di masse materiali nel sistema solare, ma che dipendono solo ed esclusivamente da come l'umanità della Terra vive la sua vita. Questo ci farà pezzi. Le nostre scelte quotidiane, la nostra indifferenza, questo è il danno più grave dell'umanità. Libiru, dal mio punto di vista, ci sia o non ci sia, non ci farà manco il solletico. Ecco, proprio in virtù di queste risposte, di cui sempre ti ringraziamo, c'è una domanda che pone Iron, una domanda che chiede quando dovrebbe avvenire lo spostamento dell'asse terrestre. Mi chiede di dirti come avverrà e quando avverrà questo spostamento. Poi c'è l'altra domanda di Anon, che si chiama Oscar, ed è di Genova, e chiede anche di conoscere se verranno prelevati anche degli animali. Le informazioni che abbiamo da parte extraterrestre, ribadisco, sono informazioni a partire dai primissimi anni 50, quindi sono informazioni che hanno più di 50 anni ormai, sono che intanto sia la flora che la fauna terrestre verrà messa in salvo. Perché ribadisco che non solo il pianeta ovviamente ha bisogno di esseri umani fisici, ma ha anche bisogno poi dei due regni inferiori, del regno animale e del regno minerale. Quindi assolutamente sì, gli extraterrestri hanno già messo in salvo tutto quello che necessita per ripopolare il pianeta in tutti i suoi ambiti, quindi sia vegetale sia animale. So anche da informazioni extraterrestri che in realtà il prelevamento in alcune zone del pianeta è già cominciato. Per adesso non è un prelevamento globale, è un prelevamento diciamo così a macchia di leopardo, ma nei posti dove coloro che sono adatti per far parte del nuovo regno rischiano la vita e quindi che devono essere prelevati anche fisicamente, già gli extraterrestri lo stanno facendo. Quando ci sarà lo stamento dell'asse non lo sappiamo, sappiamo che questo è il periodo, quindi nei prossimi anni, però una data certa gli extraterrestri non la danno, in quanto comunque questi eventi sono in una fluttuazione dovuta all'esercizio del libero arbitrio da parte dell'umanità, cioè c'è una concausa nostra. Quindi più noi siamo accelerati, più noi siamo violenti, più noi siamo disarmonici e più questo evento si avvicinerà, più ci avviciniamo verso il bene, più diciamo ci risvegliamo alla vita etica e più questi eventi diciamo si diluiscono o si allontanano nel tempo, quindi dipende da noi. Per quanto comunque a livello fisico-astronomico ci sono delle date oltre le quali non si può andare, però queste non ci sono state dette o perlomeno ci sono state dette, ma in una forma non al mese o all'anno. Sappiamo che questo è il periodo appunto, la Vergine di Fatima dice, nella seconda metà del secolo mistico, che sono i cento anni, quindi questo è un processo che inizia nella seconda parte dei cento anni dal 1917 al 2017, ma dal mio punto di vista però è solo un mio punto di vista, quindi vale quello che vale, io credo che nei prossimi anni, non tantissimi, dubito che sia entro il 2017, però chi lo sa, potrebbe anche essere. L'importante non è quello che accadrà, questo ci tengo a sottolineare, non è importante quando accadrà lo spostamento dell'asse, quando torna Cristo, quando atterreranno gli extraterrestri, perché noi su questi macroeventi non ci possiamo fare nulla, il giorno che accadranno, accadranno, quello che possiamo fare invece è adesso, cioè mettere la nostra vita, le nostre scelte nella condizione di entrare a far parte di questo evento, che ci trovi pronti questo evento, questo è importante, perché questo sensazionalismo sempre di voler sapere la data, ma accadrà questo, quando accadrà altro, noi dobbiamo agire adesso, perché quando accadrà lo spostamento dell'asse sarà troppo tardi, adesso è il momento di agire, adesso è il momento di fare la scelta, che purtroppo è difficile, perché le persone vogliono sapere tutto, vogliono capire tutto, ma dopo non hanno la forza e il coraggio di cambiare la propria vita, questa è la cosa più deleteria. Piero Giorgio, hai parlato di un numero di persone ben precise, se non ricordo male, 7 milioni e qualche altro numero, 7 milioni, 465 mila, 006 persone. Ecco, questo numero così preciso e così, diciamo, contenuto, ha un significato, è motivato da altre… Sì, sono numeri, Ugo, che fanno parte della matematica divina della creazione, quindi sappiamo bene che Dio ragiona secondo numero, lo disse anche Einstein, questo fatto qui, Dio non è uno che gioca i dati, sappiamo benissimo che la creazione è il numero perfetto, il corpo umano è una straordinaria perfezione numerico-geometrica-matematica, così lo è la Terra, il cosmo, quindi l'universo obbedisce a leggi che sono su base matematica, quindi questo numero assolutamente si inserisce in questo contesto, in questa logica, è un numero che è stato dato molti anni fa, se non erro nel 77, ma potrei sbagliarmi, Eugenio Siragusa accompagnato da grafici che spiegavano che questo numero era appunto un numero necessario che scaturiva da equazioni ben precise per la sopravvivenza del pianeta. So che le persone adulte, perché i bambini so che verranno prelevati tutti, tutti i bambini verranno prelevati, ma le persone adulte che verranno prelevate in questo momento sono circa 10 milioni di persone. A dire il vero gli extraterrestri speravano di avere un risultato migliore, però sono un po' delusi, perché l'uomo di questo mondo tutto ama fare tranne che cambiare il proprio iter di vita, però comunque io sono qui a parlare con te, a parlare con le persone nelle conferenze, a parlare quando vado in giro all'estero e cercare di risvegliare e di spronare le persone, perché se ci attiviamo, se entriamo e diamo la faccia nella nostra società, magari riusciamo questo numero a farlo aumentare, quindi assolutamente azione meritoria alla vostra, Ugo con questo programma che affronta questi argomenti comunque scottanti, anche scomodi, perché è un ottimo strumento per poter in qualche modo sensibilizzare le persone sperando che dopo vadano a incrementare questo numero. Io ho mia vita a disposizione di questa causa ormai da 30 anni, quasi 30 anni e spero che saremo 50, 100, un miliardo, più possibile, più siamo e meglio è. Ma infatti queste chiacchierate che potrebbero sembrare chiacchierate di parte, riservate a pochi, io mi auguro assieme al tuo intervento, agli interventi che sollecitiamo anche a Giorgio e altre persone esperte, brave, intelligenti come voi, possano aiutarci in questa opera, con tanta mobilità, con tanta semplicità. Di parte, Ugo, scusami se intervengo, ma secondo me non sei di parte, noi siamo, se di parte siamo, siamo nella parte sfavorevole, perché la stragrande maggioranza del sistema mediatico, soprattutto il mainstream mondiale, rema totalmente contro questi argomenti. Quindi il nostro che è alla fine un piccolo spazio, un piccolo focolaio di resistenza contro una pervasiva dittatura dell'informazione che occulta tutto questo. Quindi noi diamo... Giorgio, scusami se ti interrompo, di parte volevo dire, e ho dimenticato l'articolo, una piccola parte di noi, suggerito agli ascoltatori. Però c'è un'altra domanda che ci propone Anon 9849 e mi chiede, e ti chiedo, chi verrà prelevato fisicamente? Verrà portato nella terra cava? Oscar e Mariana. Sì, nella terra cava verranno portati gli esseri umani più preparati spiritualmente, diciamo quelli più evoluti. Gli altri so che verranno portati su due luoghi esterni, che sono i satelliti Io ed Europa di Giove, che sono già stati allestiti e preparati per poter ospitare gli esseri umani che appunto verranno prelevati durante queste grandi catastrovi. Tra l'altro negli anni 90 incontriamo lo scienziato Rodionov in Russia che ci disse che delle foto inviate dalle sonde che avevano esplorato i satelliti Europa era chiaramente individuabile che Europa era abitato. C'era una civiltà tecnologica avanzata, notizia che poi è stata riportata in Italia dal noto giornalista Giulietto Chiesa e pubblicata in un articolo sul quotidiano alla stampa. Quindi perlomeno su questo abbiamo anche l'autorevole parere degli scienziati perché ovviamente questa informazione che gli ho dato viene da fonte extraterrestre e comunque sia io e sia io sono due lune gioviane assolutamente prese in grande attenzione dalle sonde inviate dalla NASA. Beh, Pier Giorgio, il tempo è tiranno, però una domanda, una domanda, diciamo, te la devo ancora fare, quindi un po' di tempo te la devo ancora rubare. Ecco, l'inizio, il nuovo inizio, quando ci saranno questi fortunati che saranno poi trasportati in posti diversi, sarà dato loro la possibilità di costruire un mondo diverso o si corre il rischio di incorrere negli stessi esori di procedura, chiamiamoli così, che abbiamo vissuto in prove precedenti? Sarà dato all'uomo, saranno dati mille anni di tempo per sperimentare la vita in una superciviltà, compresi i viaggi spaziali. Dopo mille anni l'umanità sarà nuovamente selezionata, ma non sarà una selezione grave e violenta come quella attuale perché appunto qualcuno non sarà ancora pronto per entrare in una civiltà di quel tipo. Ma assolutamente con il contatto extraterrestre il cambiamento della vita su questo mondo sarà in questo momento quasi incomprensibile, talmente sarà bello, talmente sarà entusiasmante, perché gli extraterrestri daranno alla nuova umanità la loro tecnologia, ripeto anche quella spaziale, ripuliranno il pianeta, spariranno banche politici, big pharma, vaticani, eccetera, eccetera, insomma sarà un mondo assolutamente paradisiaco, sarà un ritorno a quell'Eden che abbiamo perso millenni fa, per cui sarà assolutamente bello. Se mi permetti ancora una cosa, Ugo, io invito chiunque mi sta ascoltando, se mi scrivete una mail a piergiorgiocaria.gmail.com, lo ripeto, piergiorgiocaria.gmail.com, io mando una mail con un link e varie informazioni da cui vi potete scaricare gratuitamente 18 libri che sono scritti extraterrestri e divini che danno un quadro molto esaustivo, molto vasto, comunque sufficiente per preparare le persone a questo grande viaggio di conoscenza che oggi mi ha portato a vivere le cose che vivo a sapere le cose che so. Quindi scrivetemi, con grande piacere, credo di averlo dato ormai a oltre mille persone, ma lo do perché noi soprattutto per poter riformare la nostra vita abbiamo bisogno di una nuova cultura, quindi abbiamo assolutamente necessità di conoscenza, di sapere. Bene, e con questo augurio paradisiaco che ci fa Piergiorgio, noi ci congediamo da lui, gli diciamo grazie per la sua presenza, la sua partecipazione, sempre eccellente, e per ora lo ringraziamo, magari sperando di averlo nostro ospite in un prossimo immediato futuro. Sarà nostra cura offrirgli almeno un po' di qualche bibita per tutta l'arsura che ne abbiamo provocato con le tante domande di oggi. Grazie Piergiorgio, buon lavoro. Grazie a Rosario, un saluto a Bonella e ai radioascoltatori, con grandissimo piacere, tu lo sai, io accetto sempre di partecipare alla vostra trasmissione, saluto anche Antonella che credo si sia ascoltata all'attere del programma. Grazie amici, vi stimo e vi apprezzo per questo lavoro che fate. Un carissimo abbraccio a tutti. Bene, grazie, a presto Piergiorgio. Ciao Piergiorgio. Ciao Piergiorgio.